bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xylder e oggi ragazzi voglio fare insieme a voi la missione numero 4 5 anzi numero 5 del pass battaglia della quinta settimana segui la mappa del tesoro trovata negli acri anarchici ragazzi e vi darà 10 stelline ma cosa dico 10 miliardi di stelline no ve ne da 10 ve ne da 10 ragazzi vi voglio fare vedere dov'è la location in modo che la togliete via subito subito facile facile e possiate anche voi schippare un livello del pass battaglia perché 10 stelline ragazzi sono veramente tantissime loro dicono che è difficile ma Xylder vi ha trovato la posizione aspettiamo che carichi un secondo ragazzi vi faccio subito a vedere in mappa dove la posizione esatta è più o meno qua ragazzi adesso andremo a prenderla assieme per la prima volta crocevia del ciarpame ragazzi alla sinistra di crocevia del ciarpame vedo che si scende già bene quindi appena ci darà la possibilità di scendere lo faremo e andremo a trovare la posizione esatta assieme scendiamo subito è vicino a una roccia è vicino a una roccia dovrebbe essere da queste parti allora perché ci fa vedere nella mappa originale che trovate da gli anarchici il lama che è quello lì davanti e questa qua ai miei piedi dovrebbe essere proprio la roccia che ci dovrebbe garantire i 10 punti stella per schippare il pass battaglia andiamo subito con l'atterraggio pulito 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 scattaaaan eccola qua ragazzi eccola qua ce la prendiamo e ci facciamo la missione così di prepotenza salutiamo anche questo salutiamo anche questo salutiamo grande zio grande zio beh ragazzi che dire se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi tantissimi al canale e se volete giocare con me ragazzi basta solo che venite nelle mie live pomeridiane e serali noi ci vediamo presto ciao ciao